Buongiorno amici! Anche oggi giovedì, quindi anche oggi video approfondimento. Oggi amici voglio parlarvi di una delle cose che ha scosso nel nostro paese, uno di quei ricordi che abbiamo tutti ormai nelle nostre menti, io mi ricordo ancora bene, il lontanissimo 2012 ormai, stiamo parlando di 12 anni fa, cioè è pazzesco ogni tanto dire 12 anni, 13 anni, mi ricordo ancora quando ero piccolo e già dire 5 anni fa era tantissimo ed era quasi metà della mia vita, adesso invece dire 5 anni fa, insomma, sembra proprio dietro l'angolo. E 12 anni fa appunto amici, il 13 gennaio ci siamo quasi, tra poco ci sarà pure l'anniversario, ci fu purtroppo il disastro, il naufragio della Costa Concordia. Uno degli eventi che ricordo bene aveva scosso tantissimo, mi pare che addirittura successe a 100 anni dal naufragio del Titanic, quindi veramente una cosa stranamente collegata, mi ricordo che se ne parlava in classi, ero in quarta superiore, quindi diciamo che mi rievoca tantissimi ricordi. E nonostante questo, nonostante il fatto che il caso della Costa Concordia si sia chiuso da circa 4-5 anni, perché poi ovviamente c'è stato tutto lo smantellamento di cui tra poco vi racconto, sembra veramente una cosa che è successa ieri, sembra veramente una cosa che non sia mai passata, perché è stato un disastro ed è stato talmente forte l'impatto, mi ricordo, nelle nostre giornate successive a quell'evento, che resta indimenticabile insomma, è come se fosse una cosa che ancora oggi è in atto stranamente, non so come spiegarvelo. Comunque amici, perché vi parlo della Costa Concordia? Perché ci sono stati ben due esploratori che durante le fasi di smantellamento, durante la permanenza della Concordia stessa nel porto di Genova, sono riusciti ad entrare e hanno mostrato al mondo gli interni di una delle navi naufragate più famose sicuramente di questo secolo. E il loro operato ha permesso a tutti noi di vedere effettivamente come è rimasto tutto quello che c'era al suo interno, tutte le stanze, tutti gli oggetti, le cabine, tutte le grandi sale comuni dove stavano tutte le persone quando erano sulla Costa Concordia. Voglio fare però una premessa, prima di iniziare tutto questo grandissimo discorso, prima di iniziare a raccontarvi un attimino la storia, anche della Costa Concordia stessa, ovviamente non è un video che io voglio prendere a cuor leggero, è stata una tragedia, questo è sempre da metterlo in chiaro e da ricordarlo, sono morte ben 11 persone e altre tante sono state ferite durante questo fatto e quindi ovviamente il massimo rispetto e il massimo ricordo o tributo, chiamatelo come volete, rispetto a queste persone che durante questo evento hanno perso la loro vita, è una cosa a cui ci tengo, come ci tengo quando entriamo nei luoghi abbandonati a non mancare mai di rispetto alle persone che magari l'hanno costruito, l'hanno comprato e l'hanno vissuto e che oggi non ci sono più. Ormai mi conoscete, sapete come tratto le cose, sapete che cerco di avere il massimo rispetto, quindi è una premessa che voglio fare e ci tenevo giustamente a farla. Tra l'altro piccolo fatto, tenete conto che quando c'è stato il disastro della Costa Concordia, io avevo 18 anni, andavo in una palestra nel mio vecchio paese che era Pessano con Bornago e lì nella palestra che frequentavo c'era una ragazza che lei è stata sulla Costa Concordia ed era lì quando è successo tutto il disastro, quindi ho avuto anche la fortuna di avere diciamo una testimonianza proprio diretta di chi quel disastro l'ha vissuto. Lei fortunatamente fu una di quelle che non si fece niente, ne uscì totalmente illesa. L'unica cosa che purtroppo perse per ovvi motivi sono stati gli stessi bagagli, cioè lei ha dovuto lasciare lì tutto quello che si era portata, tutte le valigie e per sé tutto. Non ci disse molto anche perché ne stava parlando durante un momento in cui eravamo tutti insieme, durante un momento di corso, era un corso dentro la palestra, però ci disse che non fu proprio bello. Più che altro per il freddo, si ricordava tantissimo freddo e anche gli interventi non sono arrivati subito, anche perché non era ben chiaro tutto quello che fosse successo. Quindi voi immaginate, sentite un rumore, inizia un blackout, inizia veramente tutta una serie di situazioni molto caotiche che uno non riesce a capire, uno può immaginare ma non ha ben chiaro quello che sta succedendo e oltretutto la nave pian piano si sta inclinando. Quindi una situazione veramente noi definiremmo da film, ma proprio perché mentalmente è quasi impossibile immedesimarsi in quella situazione. Quindi amici facciamo un piccolo recap di tutto quello che è successo durante la Costa Concordia per chi magari di voi è più giovane e questo evento non l'ha vissuto o magari era troppo piccolo per cui non se lo ricorda benissimo e poi vi mostro tutte le immagini girate dai due esploratori che sono riusciti ad entrare dentro la Costa Concordia. Allora, il naufragio della Costa Concordia è molto facile da riassumere. Durante una di queste crociere messe in atto da questa nave su cui in quel momento c'erano, pensate, ben oltre 4.000 persone. Cioè la capacità di carico della Concordia era una roba spaventosa. Infatti era una delle più grandi navi da crociere mai realizzate dalla stessa compagnia. Quindi, ma c'era quasi un'ammiraglia. C'era una roba di cui essere super orgogliosi, super fieri. Era letteralmente un mostro enorme sul mare. La Costa Concordia in quel momento stava eseguendo una manovra. Il problema di quella manovra è che era molto vicino a degli scogli. Alcune di queste rocce erano affiorenti sull'acqua. Noi le definiremmo di più a filo. In sostanza c'erano, ma non si vedevano. Erano magari sotto di tanto così, per cui non erano ben visibili. Lì poi adesso, ragazzi, io non voglio entrare nei tecnicismi. Io immagino che ci siano dei radar, qualcosa che rideva. Anche gli scogli sott'acqua. Evidentemente c'è stato qualcosa di strano. Comunque sta di fatto che durante questa manovra purtroppo tutta la fiancata sinistra, vista da frontale era la sinistra, della Costa Concordia purtroppo venne completamente lacerata. Venne completamente aperta dall'impatto. Pensate che la lacerazione era lunga 30 metri. Cioè voi immaginate uno squarcio netto provocato da uno scoglio, da una roccia. Cioè se ci penso mi fa veramente impressione, perché è come dire dalla mia porta blindata fino al balcone del vicino. Cioè è tantissimo. Questa lacerazione purtroppo fece entrare un sacco di acqua dentro la nave. Quest'acqua ovviamente pian piano sbilanciò il peso della nave, tant'è da inclinarla di ben 80 gradi. Cioè praticamente tutte le immagini diciamo più iconiche della Costa Concordia, quelle con cui io stesso mi ricordo, mi sono alzato il giorno dopo, ho scoperto il disastro proprio perché durante tutta la notte è successo questo fatto. Mi ricordo letteralmente queste immagini di questa nave completamente sdraiata sull'acqua. Cioè era una roba... Io la guardavo e dicevo ma cosa diavolo è successo? Com'è possibile? Come quasi se un gigante perdesse l'equilibrio e te lo ritrovi così. Cioè è assurdo. Soprattutto poi guardando una nave che non dovrebbe mai e poi mai nella vita stare in quella posizione sull'acqua altrettutto. Ovviamente da lì gli amici iniziarono tutte le procedure di recupero, sia di tutte le persone che erano presenti sulla Costa Concordia, sia di tutto l'equipaggio. E poi successivamente una volta stilato ovviamente il report di sopravvissuti e purtroppo morti, deceduti, decisero di trovare un modo per risollevare la nave. Riuscirono a risollevarla grazie a un team pazzesco, composto da ingegneri e da imprenditori veramente eccezionali, tra cui abbiamo anche un italiano. Tale Silvio Bartoletti con la sua azienda Mico Peri contribuì con il sollevamento della nave, riportandola finalmente in posizione di galleggiamento, perché ovviamente non era possibile farla ripartire. E riuscirono pian piano a riportarla prima al porto dell'isola del Giglio e poi successivamente al porto di Genova. Lì ovviamente la nave rimase dal 2014 al 2017, fecero un'opera clamorosa, riuscirono a recuperare veramente tantissimo di tutto quello che c'era a bordo della nave. La smantellarono completamente, recuperarono tutti gli oggetti possibili, recuperarono tutto il carburante, anche se questo lo fecero prima, recuperarono tutte le acque nere, le smaltirono, cioè quindi c'è stata proprio un'opera in cui volevano far vedere sì, ok, il disastro c'è stato, ma vogliamo comunque uscirne bene, ne vogliamo uscire fieri di tutto quello che stiamo facendo per sistemare questo disastro. Quindi è molto bello, cioè quando andate a leggere tutti i racconti della Costa Concordia, quando andate a sentire dei podcast che io vi consiglio sulla Costa Concordia, vi rendete anche conto durante la fase di recupero quanto in realtà sia stata una roba che abbia cambiato in qualche modo le sorti di questa storia, proprio perché nonostante la tragedia ci fu una cooperazione tale sia dall'Italia sia dagli Stati Uniti per fare una roba mai fatta prima. Ci fu un evento simile in cui una nave sempre inclinata in mare venne recuperata. Per vedere questo evento dobbiamo tornare a Pearl Harbor durante gli anni 40, quindi in piena seconda guerra mondiale e tra l'altro dobbiamo anche parlare di una nave molto più piccola. Tenete conto che mi pare che la grandezza della nave corrispondeva alla parte lacerata della nave della Concordia. Quindi immaginate, era una roba molto diversa, stiamo parlando di dimensioni molto più ridotte in confronto alla Concordia che è un gigante. Ok amici, partiamo con la storia interessante, con quello che tra virgolette interessa a noi, ovvero il momento in cui la nave venne lasciata al porto di Genova. Come vi ho detto prima, lo smantellamento totale presso il porto di Genova durò dal 2014 al 2017, che impegnò, pensate, 350 operai per tre anni interi. Cioè voi immaginate 350 operai che tutto il giorno, ogni giorno, lavorano allo smantellamento di questo colosso. Ovviamente amici, lo sapete bene, ne esistono di esploratori pazzi nel mondo. Io vi ho fatto conoscere Bob Thyssen, vi ho fatto conoscere Super Suce, anche Exploring with Josh, un matto che va ogni volta in qualsiasi parte del mondo pur di esplorare. Qui amici abbiamo ben due ragazzi che penso in momenti differenti, perché nel video si vede che sono rispettivamente da soli, e decidono di entrare di nascosto, di notte, sulla costa Concordia, o comunque durante la mattina, molto molto presto, per esplorarne gli interni e fare foto e video. Questa documentazione la trovate facilmente su YouTube. E ovviamente vi lascio sempre in sovripressione quando vedete le immagini interne della costa Concordia, non solo il nome del canale, ma anche il nome del video, in modo tale che lo potete trovare con più facilità. Faccio una piccola nota amici, quando vedrete che gli esploratori entrano sulla costa Concordia, troverete delle luci accese. Parte delle luci furono apposta ammesse dagli operatori che stavano smantellando la nave, semplicemente per vedere. Erano luci, tra virgolette, da cantieri. La cosa che mi ha fatto specie per primissima, ma proprio per primissima, è il fatto dei controlli. Ecco, il fatto che non hanno trovato nessuna guardia, magari sono stati lì a capire i giri che facevano delle sentinelle, delle guardie che si occupavano della sicurezza della costa Concordia, poteva essere che le avevano calcolate, quindi sono proprio passate nel momento in cui non c'era nessuno. Altra cosa è il fatto proprio di come sono entrati, cioè nel senso che questi qua sono riusciti ad entrare quasi dalla porta principale, quindi anche questo vi giuro quando guardo quel video dico wow, cioè io non so se me la sarei mai sentita di salire lì sopra, anche perché poi nel caso dovessero iniziare i lavori, magari anche lì. Io ho fatto mille ipotesi. Uno dice potrebbero arrivare gli operai, sì, magari ci sono andati di domenica, avevano dei giorni di riposo, immagino questi 350 cristiani che lavoravano giorno e notte su questa nave. Quindi magari sono andati una domenica mattina, anzi un sabato notte alle 4 del mattino, sono saliti col favore delle tenebre, col favore del buio e sono rimasti lì fino alle prime luci dell'alba, quindi ci può stare effettivamente. Purtroppo non ci sono tante indicazioni riguardo questo, né nel video, perché sono completamente muti, né nemmeno su Google si è riuscito a trovare qualche diciamo orario di lavoro di questi operai sulla costa Concordia. Però devo dire che già solo lì quando io l'ho guardato ero come è possibile? L'altra cosa veramente incredibile è tutto il giro che hanno fatto al loro interno. Ci sono momenti del video che sono rari, cioè veramente io da un lato mi viene l'angoscia e da un lato mi viene un profondo dispiacere per tutte le persone che sono decedute durante questo disastro proprio perché è inevitabile pensarlo. Allo stesso tempo da esploratore non riesco a non essere colpito in maniera positiva da tutto quello che loro stanno filmando. vedere questi corridoi della nave alcuni perfettamente intatti. Tra poco vi faccio vedere anche le immagini della palestra che sono... Cioè io loro dicevo no vabbè non ci posso credere. Di contro invece le immagini dei corridoi quelle andate sott'acqua che sembra letteralmente ecco lì di vedere la scena di un film la scena di una nave tipo mi immagino il Titanic ecco c'è quelle scene in cui uno si immagina un relitto in fondo al mare dove si entra letteralmente dentro e si guardano le stanze interne. Mi sembra ancora quasi di vederle sott'acqua talmente sono state corrotte dalla situazione e ovviamente dall'ingresso dell'acqua. È micidiale. Durante il video ovviamente si vedono anche tantissimi sacchi di quelle per le macerie già chiusi proprio perché diciamo il lavoro di smantellamento era in atto. Tanto era già stato ripulito ma tanto invece era rimasto. Una delle sale che più mi ha colpito durante questo video era proprio la Hall. Se andate a vedere l'immagine di com'era la Hall della Costa Concordia prima del disastro e com'era dopo cioè non ha senso non ha veramente senso. Vedere questa enorme sala che sembra tipo un enorme teatro con tutti questi banchi davanti cioè adesso a vederle in queste riprese sembra veramente che ci si esplosa dentro una bomba è tutta completamente disastrata e fa percepire anche la grandezza io non oso immaginare quegli esploratori che cosa hanno provato mentre erano lì. mentre erano nel luogo più unico al mondo anche perché di crociere abbandonate non esistono cioè non è possibile trovarne quantomeno tutte quelle che ci sono sono altamente controllate e vi faccio un piccolo spoiler per trovare tante crociere abbandonate che sono più che abbandonate in disuso dovreste andare in Turchia in Turchia c'è proprio un cimitero di crociere che tra l'altro il nostro caro Bob Tisten ha visto ma ovviamente non è riuscito a salire proprio perché sono custodite ci sono guardie armate che girano sulle crociere abbandonate quindi ovviamente non è un posto abbandonato a tutti gli effetti è solo un posto in disuso sono navi che vengono messe lì penso in attesa di smantellamento quando finiscono al loro servizio quindi a tutti gli effetti questi due esploratori sono stati in un luogo unico che tra l'altro oggi è impossibile esplorare perché di fatto la Costa Concordia non esiste più mi immagino la loro emozione di essere lì di essere in uno dei luoghi abbandonati più particolari che siano mai esistiti e mi medesimo lo so ragazzi non so se anche voi avete questa sensazione scrivetemelo sotto nei commenti sono molto curioso è sempre un sentimento molto contrapposto ripeto tra il fatto di avere rispetto per quello che è successo ma tra il fascino inevitabile che mi trasmette proprio perché amo esplorare questo tipo di luoghi un'altra sala veramente assurda amici è la palestra cioè la palestra io penso che quando ho visto il video ho detto no ok basta devo fare assolutamente questo video vedere tutte queste tappi roulant tutte queste ciclette ancora perfettamente in ordine non so perché non siano cadute di lato io ipotizzo anche perché ovvio immaginate quando c'è veramente il mare mosso che magari muove un pochino la nave io non sono mai stato su una crociera non so quanto il mare mosso sia incisivo diciamo per la stabilità della nave stessa magari hanno una stabilizzazione particolarissima per cui anche delle onde alte non le percepisci quando si è a bordo non lo so non sono mai stato su una nave da crociera e quei pochi traghetti che ho preso anche di dimensioni abbastanza importanti non li ho mai presi durante il mare mosso quindi anche perché poi penso che non si naviga durante il mare mosso sono un po' ignorante su sta roba qua però come vi stavo dicendo non ho mai percepito grandi navi che ballano quindi o erano inchiodate perché comunque l'inclinazione c'è stata e non è possibile che siano rimaste così o magari le hanno semplicemente poi rispostate ma dubito che siano saliti per rimetterle in posizione per poi portare tutto via quindi diciamo che mi ha veramente tanto tanto affascinato il punto proprio della palestra il punto della palestra che è rimasto perfettamente intatto per anni e anni e anni è rimasto lì congelato nel tempo come tanti luoghi abbandonati quindi mi ha mi ha letteralmente stupito cioè io ero lì a guardare il video e dicevo no vabbè dai non è possibile non può esistere e quello è uno dei punti veramente incredibili anche quando escono fuori sul ponte è veramente tanto affascinante quel punto proprio perché ci sono punti in cui la nave sembra letteralmente nuova cioè sembra una di quelle navi che puoi trovare appunto in Turchia che sono lì abbandonate in attesa del loro smantellamento perché hanno finito il servizio mentre lì eri consapevole che era una nave che già aveva una storia disastrosa dietro quindi dicevo wow cioè l'ho proprio vissuto come video cioè mi è proprio piaciuto tanto mi è veramente tanto mi ha trasmesso veramente tante emozioni questa esplorazione poi ovviamente amici i punti veramente incredibili di questo video sono il vedere tutte le zone distrutte quelle che sono finite sott'acqua o quelle che più di tanti altri punti invece hanno subito la distruzione dell'inclinazione quindi immaginate tutti gli oggetti che sono letteralmente partiti e sono caduti anche perché a pensarci adesso effettivamente non penso che una nave da crociera abbia in mente il fatto che la nave si inclini più di un tot quindi sì gli oggetti saranno fissati in qualche modo ci saranno delle protezioni per questi oggetti ma non in grado di reggere un tot di inclinazione ma proprio perché fisicamente se la nave si ribalta più di un tot succede quello che è successo per la costa Concordia vedere loro che vagavano per questi lunghi corridoi bui per queste sale mentre salivano le scale con tutta questa distruzione attorno devo dirvela amici mi ha ricordato tantissimo tante stanze che ho visto di Chernobyl proprio perché vedi questa distruzione quasi provocata da una guerra quasi provocata da un disastro cosa che è stato in questo caso e quindi ti senti proprio veramente in quella situazione lì come se fosse successo qualcosa di veramente brutto che non ha lasciato scampo e quindi vivi queste immagini esattamente in quel modo come se quel disastro toccasse anche te e veramente mi ha colpito veramente veramente tanto il video più lungo dura un'ora e sedici per cui se volete andarvelo a vedere è veramente molto intenso e mi ha proprio colpito tanto ovviamente poi amici il video dalla sua pubblicazione è andato virale mi pare che quello più lungo sia quasi a 3 milioni di visualizzazioni quindi immaginate con tantissimi anche apprezzamenti proprio perché tutti noi non avremo più modo di fare quell'esplorazione non avremo più modo di vedere quel luogo quindi è veramente una testimonianza molto molto importante colui che ha fatto il video da un'ora e sedici ha fatto anche una marea di foto che sono tutte reperibili io ve ne metto adesso un paio in sovrimpressione ovviamente vi lascio i suoi crediti quindi che dire amici siamo a pochissimi giorni dall'anniversario sono passati 12 anni vola veramente il tempo non so come dirlo ma ogni volta che ci penso è incredibile ormai sembra una vita fa io spero veramente che questo video vi sia piaciuto spero che vi ho fatto scoprire qualcosa di nuovo proprio perché non è una roba di cui i telegiornali parlano è stato mostrato chissà dove è proprio una roba presente solo online quindi ho immaginato che tanti di voi magari non gli era nemmeno mai capitato di vedere questi video di vedere gli interni probabilmente qualche foto è girata anche sulla tv nazionale ci può stare non me lo ricordo sinceramente non guardo quasi mai la tv generalista quindi guardo solo le piattaforme quindi può anche essere però ritenevo importante anche su questo canale mostrare quello che è stato il luogo abbandonato che oggi non esiste più che ha comunque segnato in maniera sia negativa sia positiva la storia del nostro paese anche perché penso che tutti più o meno sappiamo che è successo questo disastro quindi ci tenevo ci tenevo a parlarne ovviamente fatemi sapere se vi è piaciuto questo video fatemi sapere anche se vi piacciono questi appuntamenti del giovedì proprio perché mi piace portarvi un punto di vista differente ripeto serve principalmente per mostrarvi magari luoghi in cui io non riuscirò mai ad andare luoghi in cui magari non mi sarà più possibile andare tipo la Costa Concordia tipo Dreamland di settimana scorsa quindi ci tengo ci tengo se mi date dei feedback riguardo questo video proprio perché riesco a capire anche meglio come raddrizzare il tiro ovviamente come potete vedere adesso è fatto tutto in maniera improvvisata mi auguro ovviamente se le cose andranno meglio se prenderà sempre più piede di magari creare proprio un set apposta per questo video del giovedì anche perché lo sapete mi piace fare le cose bene e ci tengo ci tengo che le cose un giorno possano migliorare tanto io ovviamente vi ringrazio ancora per aver visto il video fino a qui se volete lasciate un bel commento un bel mi piace ma soprattutto se volete iscrivetevi a questo canale questa è la cosa più importante quello che mi aiuta letteralmente a crescere e nulla amici noi ci vediamo sabato con un nuovo video non ricordo cosa uscirà sabato però sarà un'esplorazione molto interessante scopritelo sabato e non perdetevi quindi il prossimo video amici grazie davvero di tutto ma soprattutto vorrei dirlo ma non mi sembra il caso per questo video quindi chiudo semplicemente chiudendo con la mano quindi grandi ragazzi grazie a tutti